la storia che vi racconto oggi è di un combattimento aero navale che ha coinvolto la reggia marina e la flotta inglese e gli aerosuranti della 281esima squadriglia gruppo buscaglia quindi dato che nei giorni scorsi mi avete chiesto di affrontare di più il tema navale diciamo che oggi posso prendere due piccioni con una fava come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui in basso c'è il pulsantino per farlo le vicende che sto ripescando sono tratte da un libro che elessi anni fa scritto da un pilota italiano di sm 79 martino eichner che nel dopoguerra con un lavoro di ricerca e collaborando con l'ufficio storico inglese aveva messo insieme le sue memorie e ricostruito i fatti con dovizia di particolari pubblicando il suo libro e andando a inquadrare meglio il suo attacco condotto contro il cacciatorpediniere inglese hms bedwin avvenuto nei minuti successivi alla battaglia di mezzo giugno che aveva visto la marina italiana scontrarsi con quella inglese in quel periodo quando lessi questo libro ero alla ricerca di informazioni preziose per poter riprodurre gli eventi in simulazione dato che con il mio gruppo composto da appassionati e storici ero solito rivivere e ricostruire le battaglie principali della seconda guerra mondiale e nel mediterraneo sto parlando di più di 16 anni fa le immagini che vi mostro sono prese da un video che io stesso realizzai al tempo proprio ispirandomi all'attacco che eichner aveva condotto il 15 giugno del 42 contro il bedouin all'epoca feci un lavoro certosino anche per riprodurre abbastanza fedelmente la battaglia di mezzo agosto ma non solo anche la notte di taranto l'attacco alla barham la porta aerea illustrious le azioni su malta e lo sbarco ad anzio e poi le azioni nord africa e tanto altro ancora con quel simulatore glorioso che è stato il 2 1946 e permetteva anche molto di più con ricostruzioni della guerra in europa in russia e anche nel pacifico erano altri tempi altri simulatori e altri computer molti di quei ricordi e tutto quell'immane lavoro di ricostruzione come si dice andranno persi come lacrime nella pioggia colgo l'occasione per salutare con affetto tutti gli amici di quegli anni ma torniamo a noi episodio che vi sto raccontando coinvolge quello che probabilmente è l'aeroplano italiano più famoso della seconda guerra mondiale l'sm 79 il gobbo maledetto questo bombardiere trimotore costruito da savoglia marchetti denominato sparviero inizialmente progettato per essere un aereo da trasporto civile era un aereo veloce robusto e versatile e non passò molto tempo prima che venisse convertito in un bombardiere da volo livellato prima e aereosi durante poi il nomignolo gobbo maledetto fu inventato dalla stampa italiana a causa della bombatura dietro la cabina che ospitava il mitragliere dorsale fra l'altro di questo soprannome non c'è traccia in nessun documento inglese comunque era un aereo notevole con un'apertura alare di oltre 21 metri e dal peso di 10 tonnellate era quindi relativamente leggero date le sue dimensioni e questo era dovuto al fatto che escluse le cappottature motori era rivestito interamente in tela era equipaggiato con tre motori radiali alfa romeo 126 rc da 750 cavalli ciascuno come molti trimotori italiani questa scelta era dettata appunto dal fatto che questi propulsori non erano molto potenti almeno rispetto alle controparti del tempo e qualche problema di affidabilità faceva in modo che in caso di piantata uno di questi di uno di questi gli altri due avrebbero permesso comunque l'aeroplano di continuare a volare a parte questo i tre motori alfa romeo spingevano lo sparbiero alla considerevole velocità di punta di 430 chilometri orari con una tangenza di 7000 metri e poteva trasportare bombe fino a 1250 chili o un siluro da 876 chilogrammi e restare un aereo maneggevole la maneggevolezza di questo aeroplano permetteva ai piloti italiani delle vere e proprie bravate come il volare ala dentro ala nelle sue memorie martino descriveva la sorpresa e il timore che l'aeroplano incuteva a primo sguardo ma volarlo era tutta un'altra storia completato il suo periodo di addestramento si sentiva abbastanza sicuro da fare il test finale che consisteva in un looping detto volgarmente giro della morte e fondamentalmente consisteva nel raggiungere una velocità di almeno 350 chilometri orari e tirare dolcemente indietro il volantino e vedere cosa sarebbe successo bisogna anche dire che la sua esperienza prima di passare agli sm79 era stata quella di tutti i piloti italiani del tempo che si addestravano su vecchi scassoni come l'ero 41 dei vecchi biplani e con quello ice ne aveva già provato un looping e ne era uscito diciamo abbastanza terrorizzato quindi con le semi 79 tolto il timore di portarlo in quella condizione il looping si riusciva a farlo e quindi all'appice di questo semplicemente l'aeroplano cadeva puntando di nuovo il muso verso il basso grazie ad una buona stabilità in generale ed era appunto un aereo pensato per il trasporto quindi per forza di cose era un aereo stabile in ogni caso questo giovane pilota nato a trento laureato in giurisprudenza e con un brevetto da pilota civile nel 39 venne arruolato nella regia diventando ufficiale di complemento queste acrobazie che vi ho appena raccontato le fece presso la scuola aerosiduranti di trieste ma ecco poco dopo il fatto del looping durante un volo in formazione con gli amici di corso finì per toccare l'acqua e ammarare accidentalmente con il suo velivolo questo episodio lo fece espellere ma in realtà poi fu subito reintegrato perché emanuele buscaglia comandante della 281esima ne rimase colpito e in quei giorni cercava piloti temerari per il suo gruppo di aerosiduranti nelle pagine del libro i contatti con il comandante della squadriglia trasmettono quel senso di rispetto e timore referenziale che buscaglia incuteva su tutti era un uomo d'azione diciamo così con un atteggiamento pragmatico spesso che cozzava con il rigido approccio del regime e mal digeriva le decisioni che arrivavano dall'alto e che non consideravano le reali esigenze operative dei suoi piloti quindi ecco una volta arrivati alle parti i comandanti di squadriglia cercavano sempre di adattarsi e improvvisare con quello che avevano soprattutto per migliorare l'addestramento dei piloti i voliti eichner con il gruppo buscaglia furono intensi e cercavano di sopperire a queste mancanze di preparazione iniziale il gruppo capì che il comandante la sapeva lunga e conosceva benissimo i problemi nella formazione basica e cercava di ovviarli portando i piloti al limite due episodi in particolare che si raccontano nel libro catturarono la mia attenzione all'epoca il primo è nel fatto che buscaglia sapeva benissimo che volare in formazione stretta durante un attacco era completamente inutile la formazione stretta poteva avere una sua utilità in navigazione per ridurre la possibilità di essere avvistati per risparmiare carburante e relativamente per motivi difensivi anzi in realtà nel caso la coppia fosse stata attaccata da un aereo nemico sarebbe stato meglio separarsi un poco ma questo perché troppo vicini non permetteva di muoversi per evitare i colpi e si sarebbe offerto un unico bersaglio al nemico un altro aspetto interessante che emerge nelle pagine del libro è il motto una frase che diceva puoi portare un attacco con siluri fatto bene oppure fatto male ma la differenza di rischio è talmente piccola che conviene farlo bene cosa significava questa frase beh buscaglia semplicemente diceva ai suoi piloti che portare un attacco con siluri con quell'aeroplano così grande e lento perché ricordiamoci che l'SM 79 per sganciare i siluri doveva stare a 100 metri di quota e non superare i 300 chilometri orari questo era un suicidio in ogni caso che quindi fare le cose in modo discreto o sbagliato il rischio era comunque altissimo quindi c'erano poche probabilità di sopravvivere a quel punto morire per morire tanto voleva impegnarsi al massimo per fare bene le cose con questa frase emblematica stava dicendo ai suoi qualcosa di molto importante durante l'attacco nei momenti che precedevano lo sgancio del siluro e dopo anche averli sganciati era necessario fare di tutto per evitare il tiro della contraere nemica quindi era meglio lasciar perdere un approccio troppo procedurale e rigido se vogliamo volando informazioni strette o dimostrando spavalderia meglio invece fare dei cambi di quota e direzione avere un approccio più subdolo e mostrarsi imprevedibili soprattutto per evitare l'anticipo dei colpi di antiaerea in arrivo e poi allinearsi ai parametri di lancio solo nel momento strettamente necessario quindi il gruppo sviluppò tutta una serie di tattiche più elusive per ottimizzare gli attacchi e ridurre le probabilità di essere abbattuti tutto questo ovviamente non risolveva l'enorme vulnerabilità che un aereo così grosso rappresentava era un bersaglio troppo grande da inquadrare e non a caso le statistiche del gruppo buscaglia erano chiare solo uno su tre di quelli che partivano aveva una possibilità di tornare a casa piloti ed equipaggi quindi sapevano benissimo a cosa andavano incontro e c'era poco spazio per le illusioni e ogni missione era un terno all'otto nonostante questo le azioni del gruppo divennero presto leggenda tanto da suscitare preoccupazioni nel comando inglese e da guadagnarsi un certo rispetto per tornare agli eventi che ci interessano a giugno del 42 gli inglesi avevano lanciato due massicce operazioni che avevano lo scopo di rifornire malta che era stato oggetto di continui bombardamenti italiani e tedeschi nei mesi precedenti la royal navy con l'operazione harpoon mirava raggiungere malta da gibilterra in un arco temporale di cinque giorni il convoglio dopo essersi raggruppato a gibilterra era composto da cinque navi cargo e una petroliera scortati dall'incrociatore leggero hms cairo e da nove cacciatorpediniere fra cui l'hms badwin quattro dragamine e due moto cannoniere inoltre il convoglio sarebbe stato scortato a distanza anche da un gruppo navale del vice ammiraglio alban curtail fino al canale di sicilia e che aveva a disposizione due porte aerei la argus e la eagle con aerei come il fulmar lo swordfish e il sea hurricane oltre alla nave da battaglia hms alaya le forze italiane erano state debilitate con l'attacco a taranto e stavano ancora riprendendosi tutte le unità principali erano in riparazione o inutilizzabili compresa la classe di unità zara che ad eccezione del gorizia erano andati perduti durante la battaglia di capo matapan dei dodici incrociatori leggeri della classe condottieri cinque erano stati affondati uno dichiarato inadatto e gli altri erano impegnati nella protezione ai convogli diretti in albania all'ammiraglio alberto da zara con la settima divisione vennero assegnati due incrociatori leggeri e sette cacciatorpediniere a disposizione per le operazioni nel mediterraneo occidentale a lui fu dato il compito di intercettare la flotta inglese proveniente da gibilterra mentre il supporto aereo poteva essere fornito dalla regia aeronautica e dalla decima figure corps dislocate in sicilia e in sardegna e a creta un'operazione che si sarebbe rilevata molto coordinata a differenza di analoghe esperienze di mancata cooperazione fra marina aeronautica come durante la battaglia di punta stilo il 12 giugno le prime notizie di avvistamenti del convoglio arrivavano a supermarina con una stima di una trentina di navi attraversare lo stretto di gibilterra e dirette a malta il giorno successivo il gruppo buscaglia tentava un primo raid ma gli aereosiduranti decollati dalla sardegna non riuscivano a entrare in contatto e rientrarono a causa di una dell'autonomia però la sera del 12 due ricognitori avvistarono due cacciatorpediniere inglesi in avar scoperta e così il pomeriggio del giorno successivo il 13 giugno alle 16 e 30 salpavano da cagliari la settima divisione incrociatori dell'ammiraglio alberto d'azzara con le unità eugeno di savoia e ramondo montecuccioli scortate da cinque cacciatorpediniere questo gruppo si diresse a a sud ovest nel tentativo di intercettare la va scoperta inglese ma non riuscendo a entrare in contatto de zara effettuava un divert a palermo la notte stessa alle 9 del mattino il primo attacco aereo italiano condotto dai cr 42 del semi 79 non sortiva nessun effetto e tutti gli aerei venivano falciati dalla reazione della caccia inglese un'ora dopo alle 10 e 15 altre ondate per un totale di 250 aerei italiani e 48 tedeschi invece colpirono duro il piroscafo tanivar da 8200 tonnellate con 13.000 tonnellate di carico fu centrato con un siluro da un sm 79 spezzandosi immediatamente in due ed affondando mentre l'incrociatore liverpool incassò un siluro sul lato di tribordo probabilmente piazzato dall'aereo del pilota arduino buri imbarcando acqua e costringendolo a ripiegare verso gibilterra al tramonto del 14 giugno così con il convoglio ormai giunto all'altezza di biserta e all'imboccatura del canale di sicilia la force h di scorta quella con le due porta aerei invertì la rotta e tornò verso gibilterra questo perché l'alto comando britannico riteneva che la marina italiana avrebbe impiegato solo forze leggere nel canale facilmente contrastabili dal cairo e dai suoi cacciatorpedinieri senza quindi la necessità di rischiare ulteriormente le principali di unità da battaglia anche perché le due le due porta aerei avevano già subito degli attacchi seppure infruttuosi da sottomarini italiani la sera stessa da palermo il gruppo navale guidato dall'ammiraglio zara si dirigeva a sud verso il punto stimato di intercetto della flotta inglese ormai prossima alle acque di pantelleria il contatto avveniva alle 5 e 40 del mattino e gli incrociatori italiani aprirono il fuoco dando inizio allo scontro l'ammiraglio inglese e visse le navi italiane in arrivo diede subito ordine mercantili di ripiegare verso sud verso la tunisia mentre ingaggiava alle navi italiane dispiegando subito una cortina fumogena per proteggere il convoglio il cairo non era in vantaggio tattico in quel momento con i suoi cannoni da 102 mm avevano minore gittata di quelli italiani da 152 da zara così ordinò l'avanti tutta spingendo l'unità a 32 nodi nel tentativo di tagliare la rotta del nemico facendo fuoco con tutti i cannoni dato che le altre unità non riuscivano a stargli dietro ordinò alle restanti di ingaggiare i cacciatorpedinieri nemici mentre lui e la vivaldi avrebbero inseguito i mercantili in fuga per 30 minuti le due flotte si scambiarono colpi di cannone e salve di siluri serrando sempre di più le distanze finché alle 6 e 15 il vivaldi fu colpito nella sala macchine da un proiettile che lo immobilizzò appiccando un incendio e fu costretto a ripiegare a pantelleria non senza ostacoli mentre erano in corso gli scontri fra cacciato pediniere i due incrociatori italiani eugenio di savoia e ramondo montecuccioli avevano continuato a procedere verso sud nel tentativo di tagliare la rotta al convoglio mantenendo un intenso fuoco sulle unità britanniche da una distanza fino ai 20 chilometri l'inglese campbell lanciò quindi il cacciatorpediniere della squadriglia bedouin in attacco con i siluri contro le unità italiane emergendo dalla nebbia intorno alle 6 le unità britanniche si avvicinarono il più possibile alle navi italiane riuscendo anche a piazzare un colpo di cannone sul quadrato ufficiali della montecuccioli che tuttavia non riportò danni all'infuori della sportazione della lettera o dalla targa che aveva il motto centum oculi trasformandola in centum culi la distanza tra due schieramenti si ridusse a poco più di 6.000 metri tanto che il montecuccioli aprì il fuoco sulle navi britanniche anche con le mitragliere antiaeree da zara decise di accostare in fuori per tornare ad allungare le distanze dicendo accostiamo altri 10 gradi se no questi signori vengono a prendere il caffè a bordo l'imponente cortina fumogena rese la situazione non chiara e funzionò bene come difersivo permettendo ai mercantili di allontanarsi dagli scontri ma il patridge fu colpito e immobilizzato e si ritrovò con un vasto incendio a bordo mentre il pedwin nonostante solo due dei dodici colpi ricevuti fossero esplosi a bordo gli altri lo oltrepassarono scusate lo trapassarono riportò danni gravissimi con lo scafo squarciato in più punti e completamente immobilizzato senza più energia e con i depositi delle munizioni allagate per un principio di incendio anche il cairo che cercava di appoggiare l'azione con il suo tiro fu raggiunto da un colpo sulla prua che tuttavia non provocò gravi danni alle 6 a 45 per sottrarsi alla manovra italiana che tendeva a tanagli la strada campbell ordinò alla sua formazione di invertire la rotta e di nascondersi all'interno delle cortine fumogene fu proprio grazie a esse che la manovra fu notata dalle navi italiane solo alle 7 e 3 quando ormai la distanza fra i due schieramenti era diventata molto elevata le unità britanniche si tennero al coperto della zona coperta dalla cortina di fumo mentre gli incrociatori italiani si aggiravano ai suoi margini facendo fuoco quando si presentava un bersaglio ma il tiro divenne sempre più intermittente ma anche in questo modo alle 7 e 40 il cairo fu centrato da un colpo di 152 mm dell'eugenio di savoglia il proiettile penetrò in locale nelle locale macchine ma produsse solo un allagamento perché non esplose con le unità di scorta intente a confrontarsi con gli italiani i mercantili del convoglio di vendono una facile preda per gli aerei dell'asse alle 6 e 30 il piroscafo kant fu colpito da un bombardiere impicchiata stuca ed iniziò ad affondare mentre la petroliera kentaki fu colpita più volte sviluppando un incendio a bordo e obbligando il dragamine hms hebe a prenderla al rimorchio poi per loro fortuna l'arrivo di caccia spitfire e biofighter da malta consente di rispingere altri attacchi dei velivoli dell'asse non avendo alcuna informazione dai ricognitori alle 8 da zara aveva perso ormai il contatto con il nemico scomparso dietro la nebbia artificiale cercò di ipotizzare le mosse del nemico il combattimento si era spostato a ridosso di un vasto campo minato disposto a sud di pantelleria e da zara ritenne che i britannici avrebbero cercato di aggirarlo da nord passando tra l'isola e le mine alle 8 e 14 mosse quindi i due incrociatori mantenendosi ad est del tratto minato nella speranza di procedere i britannici ma in realtà le unità inglesi si erano dirette verso sud est per portare assistenza ai mercantili colpiti da aerei da aerei verso le 9 la ricognizione aerea da malta lo informò che le navi di zara le navi di da zara si stavano dirigendo verso il barco nord del parco del campo minato e così il comandante britannico decise di procedere verso sud mantenendosi lungo la costa tunisina pochi minuti dopo le 10 alcuni juncker giù 88 tedeschi riuscirono a colpire il mercantile burdwan la velocità del convoglio era ormai già molto limitata dalle tre navi prese a rimorchio oltre alla kentucky e alla burwan anche il cacciatorpelliniere patridge domati gli incendi a bordo aveva preso a rimorchio il danneggiato bedouin campbell decise quindi di prendere una decisione e di abbandonare le unità danneggiate e di procedere con quelle che ancora efficienti alla massima velocità possibile con i due piroscafi supersiti mentre da zara non trovò traccia del nemico e sempre senza informazioni dalla ricognizione aerea prese ad incrociare verso sud ovest sperando di rintracciarlo dopo circa un'ora individuarono le colonne di fumo che si alzavano all'orizzonte però si trattava del fumo sollevato dagli incendi dei mercantili abbandonati dai britannici e ormai ridotti a dei relitti con le cacciatorpelliniere superstiti le unità italiane si dedicarono quindi a finire le navi britanniche nello stesso tempo i cacciascari lanciò due siluri contro una nave in fiamme che non poteva che essere che il burwan la quale venne attaccata contemporaneamente anche dall'sm 79 pilotato da carlo emanuele buscaglia e così in quel momento alle 14 e 15 l'sm 79 pilotato dal tenente martino eichner portandosi a 800 metri dalla nave sganciava il suo siluro sulla bedwin il cui fuoco antiaereo lo colpiva di rimando nel suo libro questa azione viene descritta con minuzia di particolari aveva visto l'aereo di buscaglia virare per dirigersi verso la purwan in fiamme e avevano fatto quella che viene chiamata oggi apertura e appunto eichner aveva scelto il bedwin vedendolo in difficoltà durante l'attacco si era mosso quanto possibile per evitare i colpi antiaeri e aveva aspettato l'ultimo momento per sganciare il siluro a bruciapelo siluro che in realtà doveva essere sganciato a circa un chilometro e mezzo ma vabbè quindi una volta sganciato il siluro eichner passava sopra la struttura della nave ricevendo i colpi che lo mandavano in fiamme e a quel punto cercò di fare il secondo ammaraggio della sua vita con il seno del poi l'errore fatto tre anni prima che quasi gli costò la carriera si rilevò invece un insegnamento prezioso perché sapeva cosa aspettarsi e riuscì a mantenere il sangue freddo per rallentare abbastanza non estrarre il carrello che sapeva avrebbe avuto conseguenze catastrofiche e così ammarare dolcemente in quei secondi infiniti di slittamento sull'acqua ricordava di aver avuto l'impressione che l'Sm 79 esistesse per trasformare in un sottomarino ma una volta fermo l'aereo continuò a galleggiare a lungo permettendo all'equipaggio di evacuare e trasferirsi sul battellino di salvataggio tutto questo mentre il Baldwin si inclinava sul lato e colava a picco nel giro di cinque minuti nelle ore successive eichner e il suo equipaggio furono tratti in salvo da un idrovolante italiano e poi trasferiti su una nave ospedale sempre italiana che nel frattempo aveva raccolto anche 217 naufraghi inglesi per molti anni l'affondamento del Baldwin fu attribuito esclusivamente ai cannoni navali italiani e solo nel 66 eichner che instaurerà un rapporto di amicizia con il comandante del Baldwin anche lui sopravvissuto all'affondamento attraverso una corrispondenza scritta in latino riuscirà a ricostruire i fatti il comandante inglese confermò la versione del pilota italiano per la sua azione eichner fu decorato con la medaglia d'oro al valor militare fra l'operazione harpoon proveniente da gibilterra e la vigorous da alessandria che prevedeva con 17 navi di rifornire malta solo due riuscirono ad arrivare a destinazione oltre a questo furono affondati un incrociatore leggero 5 caccia torpediniere un dragamine di furono distrutti 30 aerei e morirono 30 persone marinai e aviatori e 217 prigionieri inglesi da parte italiana le perdite furono un incrociatore pesante il trento che fra l'altro fu la nave dove presto servizio mio nonno più 43 aerei distrutti e un totale di 600 morti questa azione navale viene considerata oggi una vittoria dell'asse dopo questi eventi la situazione su malta venne definita disperata e gli inglesi così decisero di organizzare un'altra missione di rifornimento questa volta chiamata operazione pedestal ma questa è un'altra storia bene siamo arrivati alla conclusione nelle immagini che avete visto che mi rendo conto non sono state proprio di ottime qualità oggi ho ripescato la ricostruzione storica di quella battaglia che feci proprio più di 16 anni fa magari ecco fatemi sapere perché ne ho tante altre o per l'arbor o la notte di taranto fatemi sapere insomma da un punto di vista di mappe storiche dei teatri della seconda guerra mondiale posso fare posso fare qualcosa fatemi sapere se il video vi è piaciuto cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima